Ecco come dare la pastiglia al nostro cane senza che lui se ne accorga e ce la sputti via. Usiamo una sottiletta, facciamo delle palline simili nelle dimensioni, non ne servono molte, ne bastano tre. La terza pallina la usiamo per inserire dentro la nostra pastiglietta. Le diamo poi in sequenza al nostro cagnolino, la prima da assaggio, la seconda per provare ancora un po' meglio, nella terza in cui c'è la pastiglia vediamo che il nostro cagnolino la ingoia senza assaggiarla e non ce la sputa via. Grazie a tutti.